Coach Cavina, domenica arriva qui al Parasport Canela Montegranaro, è la seconda di tre domeniche di fila in cui la Pugsa giocherà davanti ai propri tifosi. Allarghi l'orizzonte fino alla sfida di domenica prossima contro la Venno oppure ti soffermi ad una gara per volta? Faccio fatica a pensare al prossimo allenamento, devo dirti la verità, ma per abitudine più che Scaramanzio e altro. Abbiamo già iniziato a guardare Montegranaro, l'abbiamo già iniziato a guardare prima della grande vittoria che loro hanno ottenuto con Ravenna. Certamente dopo domenica hanno acquisito, anche da chi riteneva a Montegranaro una squadra di mezza fascia, hanno acquisito Lustri. Ho sempre pensato che fosse una buona squadra, una squadra completa, lunga, esperta, talentuosa e con una guida tecnica come Cesare che non ha certo bisogno di presentazioni. Per cui una partita difficile, complicata sotto tanti aspetti, ma sono consapevole che se abbiamo lo stesso approccio e la stessa voglia che abbiamo messo in campo domenica avremo certamente anche noi i nostri motivi per dare del filo da torcere a Montegranaro. Sono contento di giocare a Canera, c'era una grande atmosfera domenica scorsa, mi auguro sia sempre così e mi auguro anche che la squadra aiuti ad accendere il nostro tifo. Tra Montegranaro e Ravenna c'è la trasferta a Bologna mercoledì pomeriggio, no? Nordicronaca. Considerando anche Fortitudo contro Treviso domenica, secondo te la classifica si potrebbe scremare nelle prime posizioni? Guarda, non riesco veramente a decifrare ancora questo campionato. Ci sono tanti scontri tra le squadre che gli altri considerano forti e certamente sono scontri che di inizio campionato quindi valgono per quello che valgono però in termini di classifica nonostante il periodo hanno certamente una valenza. Ripeto per l'ennesima volta, penso che Fortitudo sia la squadra che attualmente abbia qualcosa in più degli altri. Mi ha molto impressionato Montegranaro. Penso che in queste settimane ci si renda anche conto di quelle che sono le vere forze del campionato compreso anche Forlì e penso che avere tutti questi scontri anche in inizio del campionato di ancora più sale alla classifica però non me la far leggere, faccio fatica a guardare veramente oltre la prossima partita.